Il più grande spettacolo dopo il Big Bang Siamo noi, io e te Ho preso la chitarra senza saper suonare Volevo dirtelo Salve, sono Pamela Camassa Terza classificata Miss Italia E porca miseria però Terza classificata Miss Italia 2005 Con il numero 65 Pamela Camassa Io sono nata in Toscana E ogni volta che torno qui mi sento a casa A Colle di Bugiano Tra le botteghe degli artigiani toscani Ammasso e cozzile Mi sento a casa a Bugiano Castello Conosciuto anche come Borgo degli Agrumi E proprio qui a due passi da casa mia quest'anno c'è Miss Italia In genere quando sto un po' giù vengo in posti come questi Dove non c'è nessuno Dove senti le cicale, gli uccellini Scontato addissima Le cose semplici sono sempre quelle più belle Io sono Pamela Camassa Ho 27 anni e vengo da Prato Sono la numero 65 Stavo ricordando un po' Miss Italia Meraviglioso Camminare è una delle cose più belle Ti fa stare in forma Ti fa sentire bella Per mantenermi in forma Faccio ginnastica artistica Che lo pratico ormai da 15 anni Moderatamente sportiva Pratico sport Per mantenermi in forma Mangio di tutto Sono un po' pigra E quindi per il fisico Non è che faccio ore di palestra Partendo dal fatto che mi piace mangiare Mangiare sano e tutto E poi inoltre faccio danza latino-americane Almeno tre o due volte a settimana Che ci vuol capare per essere belle? Basta farsi una passeggiata Quando piove, quando c'è il sole Non importa come sia il tempo Ma è una cosa che Ti fa avere la pace dei sensi E come sto adesso Io fin da quando ero piccola Ho sempre avuto la passione Per i concorsi di bellezza Ho sempre stata attratta Io poi avendo una sorella più grande Di nove anni Anche lei stessa amava Con corsi di bellezza Quindi insieme simulavamo a casa Le sfilate Facevamo un po' le pazzerelle Piccole showgirl La terra toscana è un posto magico Un posto meraviglioso E infatti molti artisti decidono di venire a vivere proprio qua Perché trovano l'ispirazione Proprio come ha fatto lui Per favore Fermata Il mio primo giorno a Miss Italia sembrava il primo giorno di scuola Ci hanno messo subito a fare le foto E era imbarazzantissimo Nessuno conosceva nessuno Stavi là per conoscerti E facevano l'appello Non chiamandoti per nome Ma chiamandoti per numero E avevamo solo dei numeri Imbarazzante Io cercherò di stare tranquilla Perché comunque se mi imbarazzo Poi non rendo come voglio Imbarazzata all'idea di tutto quello che farà nell'arco di questi 20 giorni No, non sono imbarazzata in questo momento E neanche in questa avventura Imbarazzo? Un pochino Penso che sarò sicura di me Perché in questi anni ho raggiunto una certa sicurezza No, sono contenta Ero la numero 65 Questa è Pamela Con il numero 065 Io sono sempre stata una persona abbastanza timida Un po' chiusa in me stessa Perché magari inconsapevole anche della pseudo bellezza Quindi in questo Miss Italia mi ha aiutato tanto A essere più sicura di me stessa Mi ha aiutato a sapermi confrontare di più con le persone A non aver paura Che non bisogna assolutamente averla Anzi Ragazzi posso darvi un consiglio Troverete un sacco di gente che vi domanderà Ma tu vuoi vincere Miss Italia? E tante ragazze, anche nel mio anno, rispondevano Ma sì, mi piacerebbe Però sono contenta di essere arrivata qui Alle prefinali, nazionali, alle finale nazionali Non rispondete così Perché è tutta una cavolata C'è la competitività Solo una vince Solo una è la vincitrice Io personalmente ero molto competitiva Però l'ho presa come stimolo Uno stimolo a stare là e a gareggiare Perché è una gara Questa gara è uno stimolo per rendersi conto pure di quanto uno ha fiducia di si stesso Di quanto può essere importante acquisirla, questa fiducia Tra il vincere e il partecipare è più importante vincere Perché tutte quante qui siamo venute per vincere E non soltanto per partecipare Non l'ho presa né come un gioco Né come un'esperienza diciamo di fondamentale importanza Quindi vita l'importanza Siate leali L'invidia c'è La competizione ci deve stare E prendetela come cosa positiva Perché fidatevi L'umiltà paga Laggiù c'è Montecatini Dove ci sarà quest'anno Miss Italia Confrontarsi con le ragazze non è stato assolutamente facile Anzi D'impatto Gli sguardi erano tutt'altro che amichevoli Ci guardavamo Ci osservavamo Si respirava quell'aria di competizione Ma adesso però mi dovete levare una curiosità Cioè voi state qui in totale tranquillità Giocate a carte Parlerete di un sacco di cose Ma voi sapete che qua sbarca Miss Italia Quindi ciò significa 250 ragazze Spero che questo sogno si avverirà Si avvererà Fidati Vi sfrideranno tutti davanti in costume Questa è un'altra bella notizia